Siamo con il dottor Vito De Palma, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia, candidato presidente Raffaele Fitto. De Palma, il suo appello al voto. Immagini di avere dinanzi a sé ogni elettore, ogni possibile elettore uno per uno. Perché votare Vito De Palma? Io penso che l'appello al voto del sottoscritto è un appello molto semplice. In questo momento tutti i cittadini saranno presi da salto, da bigliettini, da messaggi di ogni genere. Io metto a disposizione della comunità tarantina di tutto la provincia di Taranto la mia esperienza amministrativa, la mia esperienza professionale, il mio vissuto associativo insieme ai giovani e quant'altro. E se vogliamo anche la mia esperienza politico sindacale. La metto a disposizione di una provincia che deve assolutamente reclamare i propri diritti con determinazione sui tavoli baresi, sui tavoli della regione. Oggi questa provincia non ha reclamato e non ha attenuto quanto gli aspettava. Attraverso che cosa? Quali sono le mie direttrici di intervento? Il turismo, l'agricoltura e sicuramente la sanità. Noi abbiamo necessità di guardare su questi tre segmenti per restituire la dignità ai tarantini e a tutti i cittadini della provincia di Taranto, la dignità del lavoro, la dignità del diritto alla salute e la possibilità di poter guardare con fiducia al nuovo che avanza, ma soprattutto guardare in piedi, con la spalla dritta. Noi non abbiamo necessità di reclamare risorse col cappello in mano, come si usa a dire. I nostri diritti non sono secondari rispetto a quelli di altre province pugliesi. Noi dobbiamo reclamare quello che spetta per la nostra provincia tarantina e ritornare ad essere la Taranto che è stata importante all'intorno del tessuto regionale grazie ai tanti politici che l'hanno fatto diventare importante. Oggi tutto questo purtroppo non c'è più, non c'è più perché probabilmente Taranto è vista come terra di colonizzazione e non invece come terra importante, come territorio sul quale investire e puntare. Grazie a tutti.